La grande famiglia vincenziana ha colto con calore e affetto Papa Francesco in Piazza San Pietro in occasione del 400esimo anniversario del Carisma di San Vincenzo, autore indiscusso di uno slancio di carità che dura nei secoli. Davanti alla reliquia del Santo, il Pontefice si è soffermato su tre verbi, cuore e risorsa di questa comunità. Adorare, dedicarsi alla preghiera, che lungi dall'essere un dovere e un insieme di formule, è invece il ponte verso il Padre. Chi adora, chi frequenta la sorgente viva dell'amore, ha detto il Pontefice, non può che rimanerne contaminato e comportarsi con gli altri in modo misericordioso, comprensivo, disponibile, superando ogni rigidità. Altro verbo è accogliere, che non vuol dire far posto a qualcuno, ma donarsi all'altro, rinunciare all'io e sostituirlo con il tu. Chi accoglie è un uomo e una donna di Chiesa, è un figlio che assomiglia alla madre. Allora è un figlio veramente fedele della Chiesa, che è accogliente, chi senza lamentarsi crea concordia e comunione e con generosità semina pace, anche se non viene ricambiato. San Vincenzo si aiuti a valorizzare questo dina ecclesiale dell'accoglienza, della disponibilità, della comunione, perché nella nostra vita scompaiano ogli asperezza, sdegno, ira, grido e maledicenze con ogni sorta di malignità. Francesco ha chiuso, soffermandosi sul verbo amare, chi ama non sta mai in poltrona a guardare, aspettando l'avvento di un mondo migliore, ma si alza e va per tutta la terra ad infiammare il cuore degli uomini. Vi auguro di non fermarvi mai, ha esortato il Papa, e di diffondere nel mondo l'amore di Dio con il buon contagio della carità.